Scusate per lo sfogo di poco fa ma questi hanno fottuto il team commando e il generale ancora comincia a tirare fuori diete da 5.000 calorie che un essere umano che non ha almeno un grammo di testosterone alla settimana non potrebbe sostenere. Ma continuano, poi piangono perché la gente gli dice quando è che vi levate dei coglioni e intanto il rispolone per acchiappare a sé tutto quello che può fare tira fuori delle cose in numeri allucinanti. Senza offesa per quella donna che diciamo molto provocante se non anche appena appena dà l'idea che abbia appena finito di fare un film porno con Rocco e che si debba fare seguire da lui. Siamo alla frutta, rispolone sei alla frutta, per acchiappare i tuoi iscritti devi tirare fuori le zinne perché altrimenti la donna puma, porca troia, vabbè.